A volte le cose non vanno come previsto. Sul servizio tecnico Storopac tuttavia potete sempre contare. In caso di problemi, i nostri esperti saranno al vostro fianco telefonicamente o via e-mail. Se in questo modo non fosse possibile trovare una soluzione, verremo direttamente da voi in breve tempo. Il servizio, per noi, è fondamentale. Ce ne andremo solo dopo che il problema sarà stato risolto. La gran parte di tutte le richieste di assistenza viene vasa al più tardi entro il giorno successivo. Vogliamo che possiate lavorare in modo affidabile con i nostri prodotti. Storopac